Inizia nel migliore dei modi il primo evento del Festival della Cultura Diffusa a Morgana. Inizia con Achille Lauro che incanta una platea di concerto gratuito, uno spettacolo di un artista che davvero sta infiammando tutta la platea. Io ci tengo a ringraziare i promoter che hanno portato qui l'artista, l'Officina dell'Arte, ma naturalmente anche tutta la complessa macchina organizzativa che ha fatto sì che questo concerto, questo evento potesse svolgersi nelle condizioni di massima sicurezza per tutti, per i cittadini, per l'artista, per gli operatori. Quindi un ringraziamento a tutti coloro che stanno garantendo i presidi di sicurezza qui a Piazza del Popolo, dalle Forze dell'Ordine, alle associazioni di protezione civile, naturalmente la Questura, le Forze dell'Ordine, un ringraziamento anche alla Prefettura perché nei giorni scorsi sono stati fatti diversi tavoli di coordinamento per consentire che questo evento per la città di Reggio Calabria potesse essere realizzato nel miglior modo possibile con tutti i criteri di sicurezza. Questa è la prima delle grandi feste, dei grandi eventi musicali che vedremo qui non solo a Piazza del Popolo ma anche a Piazza Castello, anche in altre zone della città ed è un'estate per tutti, un'estate per i cittadini, un'estate per i reggini di ritorno un'estate per i turisti che quest'anno stanno davvero affollando le vie del nostro territorio metropolitano e siamo contenti che tutto questo avvenga anche utilizzando risorse esterne all'ente senza gravare sul bilancio comunale. Sì, come faceva a non venire perché Achille è uno dei miei cantanti preferiti dentro la casa il grande fratello l'ho imitato, ho dovuto fare una performance di Achille è uno dei concerti che appunto mi piace essere partecipe soprattutto poi qua a Reggio nella nostra città del cuore e grazie per l'ospitalità al sindaco, a tutta l'amministrazione e a Reggio perché mi ha accolto come sempre e non me l'aspettavo ancora, grazie.